Sindaco, ci sono novità in merito alla richiesta di una commissione avanzata dai consiglieri Mauro Giudici e Gabriele Pastorio? Sì, nella serata di ieri sera, lunedì 26, il gruppo di maggioranza riunitosi, ha dato il via libera all'ok affinché il consigliere Pastorio incontri il segretario comunale al fine di poter vagliare eventualmente la possibilità di creare questa nuova commissione. Quindi il gruppo di maggioranza ha dato il via libera. Adesso bisogna vedere anche a livello normativo perché comunque è già presente una commissione di governo del territorio come abbiamo già più volte riportato, però la voglia e la volontà dimostrata di poter collaborare e la loro desiderio di essere sempre più presenti non fa altro che piacere al gruppo di maggioranza perché più siamo e più lavoro possiamo mettere per questo comune. Devo dire che ieri sera l'incontro si è abbastanza dilungato, la possibilità con il segretario è stata stabilita stamattina in un incontro quindi giovedì mattina l'incaricato Gabriele Pastori incontrerà il segretario comunale. I due consiglieri chiedono per questa commissione compiti specifici, di fatto come se la commissione avesse le deleghe di un assessore e siete disposti ad arrivare fino a questo punto? La proposta fatta dal sottoscritto, dai membri della giunta e da chi rappresenta la maggioranza oggi è di mettere a loro disposizione anche il ruolo di un assessorato proprio perché vivere in giunta risulta differente da vivere da consigliere quindi tutti quanti abbiamo proposto la possibilità di avere un assessorato che può essere ai lavori pubblici come più volte ribadito in questo momento si pensa più a una commissione, però ribadisco anche a livello di normativa, doverla creare sarà un compito abbastanza particolare sempre nel rispetto di componenti di maggioranza e componenti di opposizione e quindi vedremo prossimamente, anzi vedrò già giovedì mattina quali sono gli eventuali e futuri lavori che potrà mettere questa commissione. Devo dire che se la volontà è quella di seguire meglio, velocizzare i lavori, i temi che sono sul tavolo dell'amministrazione sappiamo che sono tanti, benvenga, più ci aiutiamo e più risolveremo a breve i problemi per quello che riguarda la città di Clusone. Tra questi tanti lavori, tanti interventi, ce ne sono alcuni in arrivo a breve? In arrivo a breve, giusto, stamattina siamo stati a fare un sopralluogo nella zona dopo la caserma dei Carabinieri a Lid dove si stanno ultimando dei lavori. A breve, anzi a brevissimo, quindi il 4 e 5 dicembre in comunità montana la conferenza dei servizi per l'operazione Regione Lombardia e Pineta e il 5 di dicembre l'incontro con tutti i progettisti, abbiamo ottenuto il rilievo fatto da tutti per la ristrutturazione della parte dell'ex ospedale San Biagio. Quindi nella prossima settimana la definizione dei compiti, senza dimenticare che in questo momento il Mirage è una questione sul nostro tavolo e in primis è un desiderio nostro, incontreremo a breve il consorzio della Clara Maffei proprio per definire tutte le modalità di quello che riguarda il nostro nuovo asilo. Quindi un mese di dicembre che parte già con interessanti iniziative, grosse iniziative, ribadisco, è a questo punto che la Commissione e le Commissioni e i consiglieri comunali, se hanno voglia di essere presenti, c'è da dare dimostrazione e di tenere la nostra città.